Amici, buona domenica a tutti voi. Tanti auguri a tutte le mamme del mondo. Oggi è la festa delle mamme e anche la mia. Tanti, 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 tanti auguroni a tutti voi. E vi auguro una buona domenica a tutti. 8 maggio 2022. Amici, che dire, io vi saluto con tanto affetto. Saluto l'ideatrice del progetto di My Life, Brunella Alberini. Vi auguro buona domenica. Il progetto sta andando allagrante, che manca un altro pochino. E sarà consegnato il prodotto My Life, che in montaggio è quasi completato. Manca un altro pochino. Sono ormai a giorni, manca giorni, non più settimane. Tanto sudore, tanta fatica. Alla fine verremo premiati per questo grande prodotto My Life. Con tanta, con tanta bontà e tanta passione, ce l'abbiamo fatta. E manca un altro pochino, carissimi amici di Facebook e di YouTube. Questa diretta sarà di seguire anche su YouTube. Io vi lascio e che dire, ci sentiamo nei prossimi giorni. Ciao. Ciao.